Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta della suocera. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchero, uova, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, vanillina, sale, panna fresca per dolci e gocce di cioccolato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina, la panna, le uova, il sale, la vanillina e il viento. ed azionare il bimbi per 3 minuti a velocità 4. aggiungere le gocce di cioccolato ed amalgamare con la spatola. trasferire il composto in uno stampo da 24 centimetri. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. la torta è cotta, lasciare raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. torta della suocera. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!